A noi del Comizio.it piace dare voce e spazio alla parte più viva del tessuto economico produttivo del nostro territorio, imprenditori, artigiani, professionisti, anche artisti, gente dello spettacolo e della cultura che ha voglia di raccontarsi, ha voglia di far conoscere la propria attività, la propria storia, i propri prodotti, un momento importante di confronto, di racconto, di diffusione che a noi sta particolarmente a cuore. Quindi se qualcuno di queste realtà volesse raccontarsi e far parlare di sé, non deve fare altro che contattare noi del Comizio.